Ben ritrovati su Sicilia 24 per questo nuovo appuntamento con Spazio e Notizia. La cronaca in primo piano partendo da Acireale nel Catanese dove la polizia ha tratto in arresto 4 persone per usura e abusivismo finanziario. Le loro vittime erano tutti soggetti in gravi difficoltà economiche. Il servizio. Su delega della procura distrettuale personale del commissariato di Acireale ha dato esecuzione ad un'ordinanza cautelare di custodia in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Catania nei confronti di Rosario Fichiera, Maria Concetta Torrisi, Caterina Fichiera e Mario Patanè in quanto gravemente indiziati a diverso titolo dei reati di associazione a delinquere finalizzata alla Commissione di Usura e Abusivismo Finanziario. Le indagini, durate circa sei mesi, dal dicembre 2021 al giugno 2022, hanno preso avvio da alcune notizie prese dalla Polizia di Stato di alcune vittime allo stremo non più nella possibilità di corrispondere gli esosi interessi richiesti dai loro usurai. Fin da subito è emersa l'esistenza di una ben organizzata attività di usura, tesa a conseguire profitti, prestando soldi a soggetti in gravi difficoltà economiche, richiedendo interessi a tassi proibitivi. Normalmente gli indagati richiedevano alle loro vittime la corresponzione di interessi fra il 10 e il 40% mensili da ricalcolare e parametrare a interessi annui iperbolici. Uno dei casi più significativi ha riguardato un operaio industriale al quale per un prestito di 1000 euro sono stati richiesti 300 euro mensili di solo interesse, mentre alla medesima vittima per un prestito di 300 euro sono stati richiesti 100 euro settimanali di solo interesse, stabilendo un tasso usuraio ben al di fuori da qualsiasi legale parametrazione. Gli usurati per estinguere il debito avrebbero dovuto restituire in un'unica soluzione l'intera somma ricevuta in prestito più il 10% della stessa quale ultimo interesse da corrispondere. Una seconda modalità per estinguere il debito era quella di corrispondere, oltre alla rata periodica degli interessi, un'altra rata di importo maggiore fino a raggiungere la somma capitale avuta in prestito più il 10% per l'ultimo interesse dovuto. Nel corso delle indagini è emerso un quadro di un gruppo di persone stabilmente dedito all'usura con ruoli definiti, meccanismi collaudati e priva di qualsivoglia scrupolo nell'esigere dalle proprie vittime. Inoltre uno degli indagati, Rosario Fichiera, nonostante l'ingente disponibilità di denaro percepiva indebitamente il reddito di cittadinanza. A Catania invece i carabinieri durante un controllo nel quartiere Picanello hanno tratto in arresto un pusher, il servizio. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato in flagranza un 55enne catanese per il reato di detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri impegnati nel quartiere Picanello, in un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di droga, nel transitare in via Fiume hanno notato il classico via vai di persone nei pressi di uno stabile, restando in posizione defilata e dopo aver osservato attentamente le attività in corso, i militari dell'arma, per evitare il protrarsi dell'attività illecita, hanno deciso di andare alla fonte e sono entrati in azione. I carabinieri, pertanto, dopo aver avuto accesso al piccolo stabile abitato da un uomo, identificato poi nel 55enne, che ha aperto la porta di casa, hanno proceduto alla perquisizione dell'abitazione. Nel corso delle operazioni di ricerca, in particolare, i militari hanno trovato all'interno del divano della cucina una busta in plastica contenente tre bilancini digitali di precisione e svariato materiale per il confezionamento, mentre sotto lo stesso divano è stato rinvenuto un borsone contenente due macchine per il sottovuoto, otto bustine con chiusura ermetica contenenti 91 grammi di marijuana e un'altra busta con altri 1.050 grammi della medesima sostanza stupefacente. I carabinieri, nel prosieguo delle operazioni di ricerca, hanno trovato in un cassettone della camera da letto due buste contenenti 58 grammi di marijuana e altre quattro del peso di 108 grammi ciascuna, sempre di marijuana. Dalla sostanza stupefacente sequestrata dai carabinieri, per un peso complessivo di 2.330 grammi, si sarebbero poi potute ricavare circa 13.000 dosi per un introito di circa 70.000 euro. Il 55enne è stato posto dai carabinieri a disposizione dell'autorità giudiziaria, chi ha convalidato l'arresto. Restiamo nel Catanese, ci spostiamo però a Gravina di Catania, dove un 50enne è stato tratto in arresto dai carabinieri e condotto in carcere, in quanto continuava a maltrattare e picchiare i suoi anziani genitori. Tutti i dettagli nel servizio. La Procura Distrettuale della Repubblica, nell'ambito di indagini a carico di un 50enne, indagato per il reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, ha richiesto e ottenuto nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere eseguita dai carabinieri della stazione di Gravina di Catania, che lo hanno associato presso la casa circondariale catanese di Piazza Lanza. Le indagini hanno fatto luce sulle condotte abituali e reiterate poste in essere dall'uomo nei confronti di entrambi gli anziani genitori conviventi, consistite in maltrattamenti fisici e psicologici, spesso compiute per futili motivi, sotto l'abuso di sostanze stupefacenti e alcoliche. Il 50enne, dall'inizio del 2020 e fino al novembre 2022, avrebbe tenuto un atteggiamento aggressivo, minaccioso e prevaricante nei confronti dei genitori ultraottantenni, aggredendoli regolarmente con percosse e schiaffi, ingiurandoli e minacciandoli con cadenza quotidiana. Nel corso degli anni, i genitori probabilmente nel tentativo di proteggere il figlio non avevano mai presentato denuncia, fino al verificarsi di due gravi episodi che sarebbero avvenuti di recente, nel novembre 2022. In particolare, il primo di novembre, il fratello 56enne avrebbe impedito al 50enne di ritirare la sostanza stupefacente consegnata da uno spacciatore presso l'abitazione dei genitori a Grevina di Catania. Tra i due fratelli sarebbe insorta una lite, nel corso della quale si sarebbero frapposti i genitori e nella circostanza l'indagato avrebbe spinto il padre, facendolo sbattere contro una stufa, mentre la madre sarebbe stata colpita così violentemente a una guancia con uno schiaffo che gli sarebbero volati gli occhiali da vista a terra. L'indomani, il 50enne avrebbe aggredito nuovamente la madre, che riversa faccia in giù sul pavimento tra la cucina e il corridoio, sarebbe stata soccorsa dal marito, il quale, dopo aver udito il tonfo causato dalla caduta, sarebbe stato richiamato successivamente dalle urla di dolore della donna. L'anziana madre, a seguito della predetta aggressione fisica, ha riportato diverse fratture alle ossa del naso, alla rotola sinistra, alla caviglia e alla mano destra, nonché alcune lacerazioni. I rapporti di tensione tra il 50enne e i familiari si sarebbero ulteriormente inaspriti, anche a seguito di un ricovero dell'indagato presso il reparto di psichiatria. L'uomo, difatti immediatamente dopo le dimissioni dal Dipartimento di Salute Mentale, si sarebbe presentato presso l'abitazione degli anziani e genitori e, pretendendo di entrare, avrebbe preso a calci la porta d'ingresso, minacciandoli. A Trapani la polizia ha invece arrestato un malvivente a udore di una rapina in un supermercato. Il complice era stato già tratto in arresto. Nei giorni scorsi, gli agenti della squadra mobile della questura di Trapani hanno tratto in arresto in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari di Trapani su richiesta della Procura della Repubblica, un 44enne palermitano, presunto autore di una rapina commessa ai danni di un supermercato ubicato in Via Madonna di Fatima. In particolare, l'uomo, nella tarda mattinata del 3 gennaio scorso, insieme a un altro soggetto, aveva amminacciato un addetto dell'esercizio commerciale utilizzando un punteruolo e asportando un intero cassetto contenente oltre 1.700 euro in contanti. In seguito, entrambi si erano dati alla fuga, ma uno di loro era stato bloccato da un operatore della Polizia di Stato libero dal servizio. Gli agenti della squadra mobile, dopo un'accurata visione e comparazione delle immagini tratte dai sistemi di videosorveglianza dell'esercizio commerciale con quelle tratte dagli archivi di polizia, hanno individuato anche il secondo presunto rapinatore, segnalandolo all'autorità giudiziaria. Sulla base dei gravi indizi di colpevolezza raccolti, la locale procura della Repubblica ha formulato richiesta del provvedimento emesso poi dal GIP, che ha disposto per l'indagato la custodia cautelare in carcere per il reato di rapina aggravata in concorso. A Caltanissetta la Polizia Stradale ha effettuato dei controlli elevando sanzioni per oltre 5.000 euro. Gli agenti della sezione Polizia Stradale di Caltanissetta, nel corso dei servizi di vigilanza stradale eseguiti sull'autostrada A19, hanno sanzionato due automobilisti distratti che, avendo superato lo svincolo di uscita dell'autostrada, effettuavano una pericolosa manovra in retromarcia vietata dal codice della strada e sanzionata con 430 euro di multa e la decurtazione di 10 punti dalla patente di guida. Nei confronti di un autotrasportatore controllato sulla strada statale 640 è stata invece elevata una sanzione amministrativa di 4.130 euro per violazione della legge che disciplina il trasporto di merci su strada. Nell'occasione, infatti, il conducente trasportava merci diverse da quelle prescritte in licenza. Oltre alla sanzione pecuniaria, è stato disposto anche il fermo dell'autocarro per tre mesi. Sulla strada statale 626 è stato controllato un altro autocarro che trasportava merci senza il telone di copertura necessario per evitarne la dispersione sulla sede stradale. La dispersione e la successiva caduta del materiale trasportato, infatti, possono causare pericolo agli altri automobilisti in transito. Al suddetto conducente è stata elevata una sanzione di 87 euro e la decurtazione di tre punti sulla patente. Un'altra autovettura è risultata avere gli pneumatici inefficienti e il vetro parabrezza con tante inclinature che limitavano gravemente la visibilità. Nei confronti del conducente è stata elevata una sanzione di 261 euro e lo stesso sarà segnalato per la revisione straordinaria del mezzo ai competenti uffici. Un 35enne tunisino domiciliato a Favara, siamo in provincia di Agrigento, è stato denunciato alla Procura della Repubblica per inottemperanza all'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato italiano. L'uomo, infatti, sorpreso dai carabinieri in Piazza dei Vespri mentre svolgeva l'attività di parcheggiatore abusivo, è risultato essere irregolare in Italia in quanto gravato, ormai da tempo, dall'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale e del contestuale decreto di espulsione emesso dal prefetto di Agrigento. Oltre alla denuncia, il 35enne tunisino è stato anche sanzionato per l'attività non autorizzata di parcheggiatore. Ad Agrigento, invece, armati di Mazza, hanno preso di mira i distributori automatici di snack e bibite ubicati in diversi locali della città, riuscendo a rubare il denaro contenuto nelle gettoniere. I carabinieri della locale compagnia, coordinati dalla Procura della Repubblica, hanno avviato le indagini per cercare di risalire ai responsabili. Ad agire, nella notte fra venerdì e sabato scorsi, sarebbero stati due malviventi, i quali, come detto, avrebbero danneggiato a colpi di Mazza e razziato diversi distributori automatici della città. A Palermo, invece, è tornato in carcere Francesco Moulet, indiziato di essere al vertice della famiglia mafiosa di Palermo Centro. Vediamo il servizio. I militari del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Palermo hanno dato esecuzione alla misura della custodia cautelare in carcere, disposta dal GIP presso il Tribunale di Palermo, a carico di Francesco Moulet, indagato per essere l'attuale reggente della famiglia mafiosa di Palermo Centro e per concorso in estorsione. L'arrestato, coinvolto nell'operazione Centro del 15 dicembre 2022, era stato scarcerato per alcuni vizi processuali dal Tribunale della Libertà relativi all'età dell'indagato ultra settantenne. La Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo ha quindi avanzato una nuova richiesta di misura cautelare personale accolta dal GIP in ragione del fatto che il quadro indiziario raccolto, che delinea l'attuale e concreto attivismo dell'indagato nell'esercitare il suo ruolo di comando in seno alla famiglia mafiosa di Palermo Centro, restituisce un complesso di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, non altrimenti fronteggiabili se non con la misura cautelare di massimo rigore. A ciò si aggiunga che una recente relazione medico-legale ha ritenuto compatibili le condizioni di salute dell'indagato con il regime di custodia in carcere. A Bagheria la Polizia ha invece arrestato un giovane rapinatore. Il servizio. La Polizia di Stato ha tratto in arresto un giovane sospettato di rapina aggravata in un negozio a Bagheria. Gli agenti del commissariato sono intervenuti in seguito a una segnalazione di rapina effettuata tramite la linea di emergenza 112. Arrivati sul posto, gli agenti hanno bloccato un individuo travisato con un passamontagna rosso che stava cercando di fuggire. Durante una perquisizione personale, il giovane è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e di alcuni vestiti che potrebbero essere stati utilizzati per il camuffamento. Le vittime hanno dichiarato che il giovane aveva fatto ingresso nel negozio con il coltello ordinando di consegnare i soldi, ma aveva desistito cercando di fuggire nel momento in cui si era accorto che stavano chiamando le forze dell'ordine. Il sospettato, pertanto, è stato arrestato in flagranza di reato e portato nella casa circondariale di Termini Merese. Le indagini continuano per verificare se il malvivente si è implicato in altri crimini commessi nella zona con lo stesso modus operandi. Chiudiamo questo appuntamento con Spazio e Notizia, ma l'informazione ovviamente prosegue su Sicilia 24. Grazie a tutti i nostri spettatori e notizia a tutti i nostri spettatori.